Vince Karate Urio e allora ci facciamo raccontare proprio da lei che ha vinto due medaglie d'oro. È stato più facile ieri oppure oggi? Ieri. Come mai? Oggi cosa è successo? Oggi non lo so. Dalla partenza raccontaci un po' com'è stata la tua gara oggi. In partenza eravamo tutte vicine, poi c'era la prima e poi ero superata. Tu sei stata brava, sei riuscita a superare, sei riuscita a vincere, allora noi ora festeggiamo tutti insieme. Al secondo posto l'Azzurra da quella parte, al terzo posto Sanni Obosa, pronti per la premiazione con il consigliere della Federca Nottaggio Mario Italiano. Al terzo posto, medaglia di bronzo, Sanni Obosa, Francesca Sias. Al secondo posto, medaglia d'agentro, nella canottieri azzurra, Alessandra Guglielmi. Vince la quarta finale, 7-20, 2-2, femminile, calate Urio, Diana Bernasconi. Bene, Luca, intanto solucidiamo a portarsi al pontino della premiazione, la prima del 7-20 RBB per il settore maschile, con Piediluco, San Giorgio e Calottieri Carate.